è tutto mio il mio il mio tessaro no sebbene il libro letto ormai settimane fa è stato scritto da Tolkien no stavolta non parliamo di anelli magici né di oscuri signori né di hobbit in realtà si parla di esseri umani e soprattutto si parla di draghi soprattutto di un drago vai con la sigla bentornati a tutti a una nuova puntata di vi recensisco dove parlo di libri che finalmente sono riuscita a recuperare dalla mia dalla mia biblioteca personale diciamo così oppure testi che mi avete consigliato così se ne parla in libertà senza alcuna pretesa particolare ovviamente vi ricordo che tutto quello che verrà detto è un'opinione personale non si intende offendere beh l'autore in questo caso purtroppo in me non c'è più quindi non si potrebbe più offendere ma nella casa elettrice nei fan del libro è solo una mia mera opinione personale e quindi insomma siamo tutti contenti così prendetela sul ridere le battute che si faranno saranno per intrattenimento non perché non abbia stima dell'opera o svilisca in qualche modo ok è ironia ecco ormai devo imparare a dirla perché effettivamente questa frase potrebbe pararmi da certi commenti quindi mi raccomando se non vi piace l'ironia lasciamo perdere ma non credo se siete qui se siete qui ormai credo che lo sappiate dunque ormai mesi fa per la prima volta feci un sondaggio nel quale chiesi quale libro avrei dovuto leggere per questa rubrica vi recensisco ricordo che il primo titolo è stato sherlock holmes e il golem che anche lì insomma ha avuto un gran successo quella recensione forse perché fu la prima un po perché fu uno sherlock e poi perché fu un apocrifo discutibile dal gusto discutibile spero che appunto vi siate divertiti anche se dai commenti mi sembra di sì anche perché quello più commentato il secondo libro fu quello su mozart il thriller su mozart tra il paranormal e lo storico molto più su paranormal con un mozart che alla fine compare sostanzialmente ogni tanto citato anche se sarebbe il protagonista questa volta andiamo su un grande classico quindi non autori contemporanei cioè sì in realtà è un autore contemporaneo ma appunto è un grande classico parliamo di tolkien o tolkien perché ammetto che io l'ho sempre pronunciata all'italiana passatemi il termine so che qualcuno lo pronuncia tolkien quindi io lo dino tolkien mi dispiace perché sono abituata a dirlo così da vent'anni però so che c'è anche un'altra pronuncia quindi abbiate pazienza dicevo da quel sondaggio risultò vincitore questo testo il cacciatore di draghi allora in realtà questa sarà un vi recensisco molto breve perché sostanzialmente non credo di avere molto da sviscerare nel senso non è come nel caso di sherlock o di mozart dove effettivamente avevamo delle trame davanti un po particolari e quindi chiaramente mi sono ritrovata a dire no ok qui bisogna parlare proprio nei dettagli della trama perché qua ci sono delle cose che mi hanno fatto triggerare in realtà in questo caso non c'è niente che mi abbia particolarmente triggerato però ci sono magari delle opinioni che posso dare su questo testo ha giusto ovviamente ci saranno spoiler questa rubrica è tutta spoiler cioè sappiatelo già lo devo ricordare giustamente ma ci saranno spoiler quindi se non volete avere spoiler ci salutiamo e ci rivediamo quando avrete letto il libro tanto è piccolino ragazzi solamente io ci ho messo settimane a leggerlo allora come mai ci ho messo qui tanto tempo perché ci ho messo diverse settimane forse ci ho messo addirittura un mese a leggerlo uno per questione ovviamente delle mie varie attività che mi hanno preso tantissimo tempo i giorni i giorni e le settimane scorse sono stati veramente molto impegnativi in realtà impegnativo tuttora ma ho avuto un po un clou nelle settimane precedenti un po ammetto che questo libro mi aveva molto presa all'inizio verso un tot di pagine non mi ricordo se dopo tipo una ventina di pagine ho cominciato un po a patirlo patirlo non che mi sono annoiata sia chiaro però ho perso quello in tu non ho più percepito quell entusiasmo iniziale forse dovuto al fatto che era una lettura nuova dopo diverse settimane non lo so e quindi insomma ci ho messo pochettino più tempo per recuperarlo ma alla fine ce l'ho fatta ce l'ho fatta io ce l'abbiamo fatta allora come dicevo prima in realtà non farò una vi recensisco come le altre in cui sto lì a cavillare nella trama anche perché appunto la trama in sé è molto semplice di per sé funziona solamente uno può dare delle opinioni meramente personali come detto con spoiler quindi mi raccomando se non avete ancora letto il libro e non volete spoiler nonostante sia un libro un po vecchiotto fermate qui il video ci rivediamo quando l'avrete letto allora la storia del cacciatore di draghi secondo me è simpatica devo dire che il nostro fattore giles o giles è un quello che potrei definirlo un anti eroe effettivamente almeno secondo me è un anti eroe perché appunto alla fine è il protagonista e compie delle gesta eroiche tra l'altro questo è un racconto sarebbe un racconto di sottogenere fiabesco e infatti si vede molto la dinamica della fiaba c'è l'aiutante c'è l'eroe c'è l'antagonista c'è anche la creatura magica in questo caso appunto c'è il drago anche se abbiamo il cane parlante garm come meglio probabilmente lo capisce solamente il suo patrò questa cosa effettivamente non me la ricordo perfettamente anche perché vi sto recensendo il libro dopo settimane che l'ho ultimato comunque dicevo è proprio una struttura fiabesca però effettivamente il fatto che giles o giles lo chiamerò giles ma in realtà dovrebbe pronunciarsi giles sia un anti eroe dove appunto lui si appunto riesce a compiere non volendo un'impresa eroica diventa appunto il beniamino del suo paese ham e poi anche del paese in generale perché qui è ambientata in una gran bretagna antica comunque si parla della terra di mezzo addirittura perché perché tutto nasce con un gigante del nord il quale non avendo niente di meglio da fare decide di andare a passeggiare un po in giro però si perde e finisce nella terra di mezzo in particolare nelle proprietà del fattore giles o giles di ham questi giustamente vedendo minacciati i suoi territori e la povera mucca galatea che ormai ci fa ciao ciao con la manina perché rimane involontariamente coinvolta sotto il piedone del gigante salutiamola decide di imbracciare il suo fucile e di provare a sparare contro il gigante per scacciarlo il gigante non è che percepisce come delle punturine di insetti si infastidisce e anche solo per gli insetti piglia e se ne va ovviamente prima aveva già fatto altri danni perché era passato altro eccetera eccetera questa apparenza di situazione fa sì che giles diventa o giles diventi l'eroe appunto del paese di ham con buona pace dei suoi amici nemici che insomma sono i suoi compaesani che lo guardano con un po di invia e dicono ma anche perché il nostro fattore che ha mogliato tra l'altro quindi lui avrebbe anche moglie figli no ma moglie si è un cane che appunto garm non è che lui smani smaniasse di essere l'eroe che effettivamente non voleva gente nel suo territorio è un personaggio anche un po burbero poco elegante appunto è moralmente grigio come si vuol dire oggi ed è un anti eroe perché non è che ha compiuto questa cosa per liberare no le popolazioni che stanno patendo la distruzione del no è roba mia fuori dalle scatole semplicemente così che in realtà lo rende a mio avviso un personaggio nonostante sia una fiaba quindi di solito gli stilemi fiabeschi hanno appunto una chiave metaforica barra allegorica e spesso sono rimando a qualcos'altro oppure sono stereotipati nel senso che hanno uno stereotipo un archetipo meglio un archetipo da seguire e quindi hanno dei particolari tratti o comunque appunto i protagonisti in genere sono persone buone o comunque persone che hanno poi una crescita emotiva o spirituale eccetera eccetera il classico viaggio dell'eroe usando proprio le tematiche narratologiche no però appunto in chiave fiabesca con tutti gli stilemi del caso qui no lui è secondo me per quanto questo sia un racconto di fiaba è un personaggio molto realistico cioè effettivamente me lo immagino un fattore dell'inghilterra antica forse premedievale o giù di lì che effettivamente compie non volendo un'impresa a beneficio anche di altri ma che in realtà era solo per il suo tornaconto personale ed effettivamente tutto il susseguirsi della sua vicenda nasce appunto come una questione puramente egoistica poi a un certo punto si estende ed effettivamente prende più coscienza delle potenzialità che ha soprattutto grazie anche alla spada che gli viene donata dal re a seguito della fama che riesce appunto a farsi dopo la sconfitta del gigante che è Mordicoda che è questa spada che è stata lasciata nel tesoro reale boh buttata lì come roba vecchia e gli viene data come regalino senza che si potessero rendere conto che in realtà questa spada è una spada molto speciale perché è una spada con dei poteri magici nel senso che è una spada che rimane nel fodero finché non sente profumino di draghi e ovviamente siccome il titolo è il cacciatore di draghi ovviamente il drago ciccia fuori il drago è Crisophilax Crisophilax è un drago molto astuto ovviamente avaro come tutti i draghi specialmente nell'universo di Tolkien che sentendo il racconto del gigante ritornato nelle sue terre che dice sì sì a terra di mezzo ma tranquillissima non ci sono manco cavalieri in giro non mi ha grito nessuno cavaliere to alla malparata l'unico difetto che c'ha quella zona è che è pieno di insetti veramente un fastidio che non vi dico a un certo punto me ne sono andato io per il fastidio ma per il resto un bel posticino devo dire proprio un bel posticino ci andrei in vacanza Crisophilax ovviamente cosa fa ah beh bella allora ci posso andare anch'io no si fida delle parole del gigante quindi scende anche lui nella terra di mezzo fa strage fa un sacco di danni eccetera eccetera ovviamente quando il drago comincia ad avvicinarsi alla zona di Hamcovola succede che la popolazione la città del paesello chiede a a Gis di intervenire ma no tu sei il nostro eroe salve cioè ma in quel caso me ne frega a me ma io che ne frega a me non faccio mica fuori i draghi mica c'è scritto agenzia scacciadraghi ma che è sta cosa alla fine effettivamente anche un po' complice il parroco riesce effettivamente a prendere in mano questa responsabilità specialmente considerando che poi effettivamente il drago arriva e quindi alla certa è costretto a farlo anche lì è riluttante nella cosa perché in realtà appunto non è che è un eroe vero e proprio è proprio torre a conto personale cioè da una parte potrebbe anche stare antipatico perché per certi versi è anche abbastanza arrogante o comunque me ne freghista anche a tratti e quindi tu dici boh ma questo è l'eroe ma chi è questo cioè ma perché secondo me c'ha un senso tutto questo secondo me ha senso ma noi andiamo avanti dicevamo e il nostro Gis riesce effettivamente poi grazie a Mordicoda a sconfiggere il drago e a sottometterlo perché Mordicoda è proprio la spada ad hoc per sconfiggere i draghi che appunto il re aveva lasciato in cantina perché tanto di draghi non se ne vedeva da un'eternità oppure non se ne era mai visti e quindi hanno detto ma sì dai daglielo a sto fattore giusto per farlo contento no e perché comunque sai sapete anche comunque dare un premio a un eroe che è considerato popolare alla gente fa piacere dice ah vedete il re che è buono esatto il nostro buon re Bonifacio Bonifacius Augustus anche qui nome Latinorum eccetera eccetera come diceva appunto Crisophilax arriva nella terra di mezzo fa strage arriva nei territori anche lui di Gis Gis lo sconfigge grazie alla spada e riesce a fargli dire adesso se non vuoi che ti mozzi la coda stile lucertolone ti faccia secco portami il tuo tesoro per riscattare la tua libertà e lui Crisophilax ovviamente drago ovviamente astuto comunque dice sì sì vai tranquillo ce l'ho a casa però eh vado e turno eh e Gis fa ci conto ci conto infatti il drago non torna più ovviamente il drago non torna più il punto è che ehm il re vedendo appunto che il drago non ha mantenuto la parola decide di inviare ehm Gis e i suoi best cavalieri appunto a cercare il drago per fargli appunto ottenere il suo tesoro perché perché il re comunque voleva la grana e sostanzialmente voleva la grana poi ci sono di mezzo altri sottoepisodi che adesso non vi sto a raccontare ora la sto molto facendo a larghe linee sa di fatto che effettivamente mentre i cavalieri sono lì che snobbano Gis perché plebe o no tutte ste cose qua mentre sono lì a chiacchierare dell'etichetta di corte e far tutti i suoi loro chiacchierucci da cavalierucci ehm altolocati non si accorgono che intanto si sono avvicinati ai territori del dove si è nascosto il drago ovviamente il drago appena li vede vede dei cavalieri normali cosa fa li fa fuori ovviamente pampate di fuoco tartigliate insomma li fa fuori tutti Gis era rimasto indietro perché la sua giumenta insomma già un po' stanchina ha detto sentite andate pure avanti voi lasciate stare un po' perché effettivamente i cavalieri l'avevano lasciato indietro non l'avevano aspettato loro erano andati avanti perché noi siamo i cavalieri dobbiamo stare davanti infatti sono stati i primi a farsi fuori ovviamente fino a quando a certo punto arriva Gis e dice oh ciao ci si rivede e fa eh già ma come mai sei venuto qui con tutti questi cavalieri e fa e sai sai com'è non hai mantenuto la parola quindi effettivamente Gis riesce nuovamente a sottomettere Crisophilax Gis riesce a fargli caricare praticamente gran parte del suo tesoro a portarlo ad Em però a quel punto arrivato ad Em Gis dice aspetta io però se adesso vado direttamente a palazzo il re si prende tutto il tesoro anche se gli aveva promesso una parte lui fa ma io non è che mi fido così tanto quindi decide di non andare dal re come era nei patti il re ovviamente si imbufalisce no no il tesoro è mio perché io sono il re eccetera eccetera alto tradimento da parte del fattore di Em va lì con altri cavalieri e va lui stesso per cercare di prendersi questo tesoro peccato che appunto adesso lui c'ha un drago perché Crisophilax è dietro minaccia di mordicoda è diventato il servo di Em scusate il servo del fattore di Em e quindi Crisophilax sbaraglia tutti praticamente salvo il re che il re non gli fa lo bruciacchia un po' ma non lo fa fuori e quindi Gis dice sentite sovrano voi andate bene via io sono conte di casa mia si autoproclama conte il re è costretto con le pive nel sacco ad andarsene come si suol dire da mainzona cioè prende e se ne va malcontento e infastidito col tempo cosa succede che Em scusatemi lo chiamo sempre Em perché è appunto chiamato il fattore di Em però vabbè il nostro Gis effettivamente acquisisce fama potere influenza si autoproclama addirittura a un certo punto principe fino a diventare proprio re una volta che il re non c'è più effettivamente lui si autoproclama re ed effettivamente la gente vuole che lui sia re perché appunto ha compiuto due grosse imprese scacciare un gigante e sottomettere un drago più c'ha tutto il tesoro del drago lì che cosa vuoi di più dalla vita sua moglie ovviamente poi diventa regina ed effettivamente viene narrato che quando Gis diventa re comunque è un re di buonsenso dato che appunto non è cresciuto in una corte con tutti gli stilemi e tutte le etichettine eccetera eccetera effettivamente è molto concentrato più sull'amministrare il regno ed è stato anche un regno lungo a quanto si dice un regno lungo e anche florido tra l'altro all'interno della terra di mezzo quindi poi il fattore Gis viene ricordato sempre con grande piacere e una volta che effettivamente Gis diventa re con un potere molto solido decide poi di liberare il buon Crisophilax buono insomma decide di liberare il drago perché dice vabbè dai ti sei riscattato lasciami qui il tesoro tu sei libero adesso tanto ormai io sono fermo al potere puoi andare pure perché alla fine anche il fatto di avere il drago con sé e voi mi direte ma un drago in un paesello e sì all'inizio era così poi dopo si fa costruire la reggia quindi poi giustamente il drago stava in una reggia ed era trattato ovviamente bene non era trattato in maniera cattiva Garn il buon Garn Garm scusate che è il cagnolino di Gis alla fine anche lui fa una bella vita finché poi che lui ovviamente muore di vecchiaia e cosa succede a Crisophilax? una volta che viene liberato da Gis dopo anni sostanzialmente di prigionia per quanto sia trattato sia stato trattato bene comunque è stata prigionia torna a casa sua tornando a casa sua scopre che la sua grotta a parte che non è che ha mai dato tutto il tesoro dato una parte perché i draghi hanno dei tesori immensi e quindi già quello che ha dato era più che sufficiente ma ne aveva anche molto altro a casa solo che tornando nella sua casa originaria nella sua grotta originaria, nella sua caverna trova un drago più giovane che gli ha preso la casa sostanzialmente ma ma che è sta storia? quindi poi Crisophilax deve combattere con questo drago più giovane riesce ad uscirne vincitore nonostante all'inizio insomma abbia dovuto stiracchiarsi le ali e tutto perché comunque ha fatto anni a non volare più certe cose non le ha più potute fare per anni quindi chiaramente ha dovuto un po' riscaldarsi ma alla fine è riuscito a liberare i suoi possedimenti e di tornare a casa e l'altra seconda cosa che ha fatto tra le prime comunque tra le primissime cose che ha fatto è stato andare dal gigante ma tu cosa cacchio dici che non c'è più cavaliere della terra di mezzo che era pieno così e c'era questo addirittura con la spada mordicoda che è quella apposta contro i draghi sei un imbecille e il gigante boh mi spiace e quindi niente questa è sostanzialmente la trama la trama appunto è molto semplice ha palesemente dei richiami allegorici tipo il fatto che appunto i cavalieri abbiano tutta sta etichetta e che snobbino quello che sarebbe plebeo e poi sono i primi a essere fatti secchi è un palesi richiamo al fatto che appunto è inutile che te la tiri e dici di essere quello di professione in questo caso cavaliere di professione qui e là e te la tiri solo perché tu c'hai lo status perché poi alla fine tante volte in certe situazioni veramente concrete quello che conta è il saperci fare è il saper gestire le situazioni avere buon senso avere prontezza d'azione e d'ingegno perché Gis appunto è un personaggio discutibile perché appunto non è che ti sta simpatico cioè Gis non è simpatico non è un eroe che dice oh mio dio quanto mi piace Gis no non è che ti piace perché appunto è appunto è a tratti arrogante è abbastanza meschino per certi aspetti altri sottomette il drago così è poi fa il ribelle a una certa è molto menepreghista è anche egoista soprattutto all'inizio del film buonanotte all'inizio del libro quindi insomma non è che ti appassioni al personaggio lo rivaluti col tempo nel senso partendo dal fatto che era una persona media tra virgolette normale del suo periodo man mano effettivamente ha una crescita che per certi aspetti è negativa perché appunto c'è in gabbia in gabbia un drago per farne ciò che vuole per prendere il potere eccetera è una scalata sociale comunque anche del personaggio discutibile quindi sai che è discutibile che però tutto sommato vedendo che alla fine la maggior parte della popolazione è rimasta soddisfatta del regno di Gis e dove effettivamente poi Gis è diventato re e si è preso delle responsabilità e ha fatto il meglio che ha potuto cioè lo riscatta questa cosa alla fine nonostante appunto sia un personaggio un po' che non è che dici ma oh mio dio quanto è bello il personaggio di Gis cioè può essere bello da un punto di vista di evoluzione per alcuni aspetti ma neanche troppo perché appunto l'evoluzione arriva solo quando lui diventa re quindi ha voglia che ne passano di anni nel frattempo e poi vabbè l'altro elemento metaforico ovviamente è quello del drago il drago in Tolkien ha proprio il classico richiamo del drago avaro che è un po' quello anche della saga di Nibelunghi quindi se avete presente anche lì si parla di anelli magici no l'anello del Nibelungo per intenderci no che tra l'altro dovrei avere qui da qualche parte ma che adesso ecco che è appunto questo poema antico norreno che si parla delle avventure di Siegfried di Brunilde Brunilde che era una delle Valkyrie era la figlia prediletta di Odino che va bene la versione tipo in Wagner è chiamato alla Germanica quindi è Wotan ma sarebbe appunto Odino eccetera 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 questa storia d'amore tormentata di lui che era figlio di questi due gemelli che hanno fatto figli il figliolo nonostante poi fosse venuto fuori che erano gemelli che erano stati separati insomma dei Nibelunghi parleremo probabilmente un'altra volta o ne leggeremo qualche strato in futuro comunque dicevo per Tolkien appunto il drago non ha una connotazione cioè non ha una connotazione molto positiva è il classico questa classica creatura che è bramosa di tesori di ori comunque avara proprio l'emblema dell'avarizia tanto che appunto Crisophilax alla fine si vede palesemente cioè lui va giù perché vuole cercare tesori a sua volta quindi aumentare un tesoretto che era già grosso prima in più e sono creature molto astute noi abbiamo in mente Smaug o Smaug a seconda di come lo si pronunci che anche lì quello è nello Hobbit il drago per eccellenza secondo me di Tolkien è Smaug ad esempio però anche Crisophilax diciamo che effettivamente un pochino lo richiama ma non è la stessa cosa anche perché Crisophilax tutto sommato ha certi anche pigli di ironia molto simpatica diciamo così mentre invece Smaug è proprio un drago comunque astuto perfido cioè la senti la malvagità intrinseca non che in Crisophilax non ci sia perché questo qui saccagna la gente l'ha mangiata e ha bruciato quindi non è che è buono come il pane però effettivamente la presenza scenica barra letteraria di uno Smaug non è esattamente quello di Crisophilax anche perché tanto credo che Smaug fosse anche più grande a livello proprio di stazza di un Crisophilax Crisophilax da quello che ho capito tutto sommato è un drago comunque sì grande ma di medio piccolo da quello che ho letto almeno da quello che ho capito se voi invece avete capito altro fatemi scrivere sotto nei commenti così facciamo un po' di discussione perché magari ci sono dei punti che io mi sono persa tra l'altro io appunto non sono un'espertissima di Tolkien nonostante io abbia letto Lobbit e tutto Signore degli Anelli e mi sia piaciuto parecchio appunto non sono una super esperta quindi nel caso abbiate curiosità aneddoti o cose del genere mi raccomando vi invito a scriverlo qua sotto anche perché ho fatto un po' di ricerca non ho trovato chissà che elementi sostanzialmente particolari una cosa è che appunto la dedica ad esempio che ho trovato la dedica scritta nel Cacciatore di Draghi è stata fatta appunto a un colonnello che conosceva Tolkien il quale tra l'altro aveva mi sembra era dedito tra l'altro alla costruzione di spade infatti appunto se vedete qua vedete qui c'è la spada ed era Wilkinson il colonnello appunto che era quello che forgiava le spade e quindi appunto guarda caso sia stato dedicato a lui perché alla fine l'elemento se non l'elemento principe è proprio un mordicoda perché è lo strumento magico che permette appunto l'ascesa alla fine al potere di Gista altrimenti col cavolo salvo la storia del fucile lui non sarebbe mai riuscito a sconfiggere a sottomettere Crisofilax se non avesse avuto la spada tra l'altro elemento su cui il re cerca di fare leva proprio per dire guarda che se tu stai facendo questo è perché ti ho dato la spada e Gis dice ok appunto mi hai dato la spada ora è mie e ci faccio quello che voglio io vedete un po' il personaggio com'è no? ve l'ho detto un po' ho detto non è che ti piace però non lo so non lo critichi totalmente cioè non è che lo detesti a morte almeno io non lo detesto a morte e quindi ecco questo sostanzialmente il risultato in sé che è comunque una lettura molto gradevole se vi piace ovviamente il fantasy anche fiabesco se vi piace comunque e volete una lettura anche un pochettino breve oppure volete accostarvi a Tolkien senza già buttarvi su un signore degli anelli che è una trilogia impegnativa effettivamente io suggerisco sempre primo lo Hobbit vi dico la verità perché la Hobbit è secondo me molto bello per cominciare con Tolkien perché ha anche uno stile molto più approcciabile anche qui c'è uno stile molto approcciabile mi ha richiamato effettivamente un po' lo Hobbit ma solo un po' vagamente per lo stile per l'appunto perché vabbè lo stile dell'autore è quello però c'è una differenza tra lo stile aulico ed epico di un signore degli anelli e quello di un Hobbit oppure il cacciatore di draghi che è molto più approcciabile nonostante appunto si senta che ricordi un po' una fiaba medievaleggiante ecco no però secondo me è molto simpatico è una lettura divertente ed è secondo me appunto un buon modo per approcciarsi a Tolkien se magari è la prima volta che volete farlo prima lo Hobbit però però anche il cacciatore di draghi anche se effettivamente volendo anche se non sono in ordine perché non sono opere collegate essendo però ambientata nella terra di mezzo ci sta che il cacciatore di draghi sia credo un po' prima dell'Hobbit però non ne sono sicura voi che cosa ne dite? cioè volendo immaginare un'ipotetica linea temporale nonostante ripeto il cacciatore di draghi non è collegata né all'Hobbit né al signore degli anelli ribadisco però volendo dato che si tratta comunque della medesima ambientazione non lo so secondo me c'è un po' prima ma ci si potrebbe anche collocare lui comunque ragazzi in generale la mia opinione su questo testo è assolutamente positiva non avevo dubbi perché comunque la scrittura di Tolkien è molto godibile poi ripeto in questo caso non è aulico quindi è anche approcciabile tranquillamente e fatemi voi sapere se avete letto questo libro se vi è piaciuto questa volta la puntata di vi recensisco è molto breve perché per l'appunto alla fine non avevo molto da aggiungere ragazzi però ci tenevo lo stesso a fare comunque il video cioè normalmente avessi scelto io il testo e avessi dovuto dire ok ci faccio un video non l'avrei fatto probabilmente su questo libro qua perché appunto alla fine è positivo in generale la riflessione comunque c'è un po' di rimandi li ho trovati però ammetto che se avessi scelto io autonomamente questo titolo forse non vi avrei fatto il video avrei passato ad un altro testo siccome questo però è stato vincitore di un sondaggio quindi è stato un testo che voi alla fine mi avete richiesto alla fine ho deciso di farlo lo stesso spero che vi sia piaciuto nonostante stavolta sia un po' più breve del solito incredibile ma vero appunto fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete letto se avete delle curiosità se sapete delle cose legate a questo testo qui sotto nei commenti perché mi piacerebbe avere una discussione un confronto con voi perché il bello poi è questo di scambiarsi anche conoscenze e opinioni io vi ringrazio tantissimo per aver seguito fin qui questa vi recensisco il prossimo titolo probabilmente sarà un po' una mazzata nel senso che probabilmente anzi quasi certamente recupererò un testo che ho già nella mia libreria che forse avevo anche già iniziato a leggere ma che poi ho abbandonato perché è un testo un po' me e per la gioia di molti anche se qualcuno mi ha detto no Virti fa male alla salute in realtà mi sa che è una cosa che farò perché alla fine vedo che vi sarei divertite quindi alla fine noi facciamo questi video anche per divertirci oltre che per fare divulgazione e sarà un altro apocrifo sarà un altro apocrifo signore e temo che questa volta soffrirò ancora di più di quello del golem ho questa bruttissima sensazione pazienza pazienza speriamo di divertirci dai io appunto vi saluto vi auguro una buona giornata una buona serata un buon pomeriggio a seconda di quando guarderete questo video vi ricordo che se volete sostenere quello che faccio ci sono tantissimi modi quello più semplice e gratuito è quello di iscriversi al canale di attivare la campanellina per non perdervi le notifiche lasciare like e commento appunto qua sotto e condividere il video nel caso vogliate insomma aiutare a diffondere la passione per i libri se invece volete o potete fare di più ci sono i super grazie sotto tutti i video le super chat durante le live oppure c'è la mia pagina di tp sulla quale potete anche solamente con un caffè al mese contribuire non soltanto all'attività del canale ma anche avere accesso in esclusiva a dei contenuti che sono unicamente tipo le reaction solamente su tp oppure a dei video in anteprima e quindi tipo tutte le uscite che ci sono sul canale hanno almeno 24 ore prima dell'uscita poi sul canale almeno poi in genere ci stanno anche più giorni ma dipende dalle volte tipo adesso uno degli ultimi che dovrà uscire purtroppo è rimasto su 24 ore circa perché appunto ho avuto necessità di pubblicare però appunto questo è un aiuto importantissimo perché esula anche dalla piattaforma però ovviamente appunto come hai detto ci sono anche i super grazie le super chat qualcuno mi ha chiesto di attivare anche gli abbonamenti qui su youtube ma per adesso sto aspettando perché vorrei aspettare ad avere qualche numerino in più sul canale siamo quasi 10.000 siamo quasi 10.000 e quindi tra un po' toglierò almeno per una volta la mascherina anche se come detto probabilmente la mascherina la terrò su comunque ogni tanto perché vabbè il face review lo facciamo perché ormai l'ho promesso i 10.000 però la mia idea è quella di poi comunque cercare di tenerla su salvo che poi dovrò cambiarla perché questa si sta rompendo perché non lo so la vedo anche molto parte di Vira adesso quindi diciamo che ci sarà un po' e un po' sarà una fase di transizione quindi ogni tanto Vira avrà la mascherina ogni tanto non ce l'avrà detto questo ragazzi vi ringrazio ancora tantissimo vi auguro il meglio noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti vi ringrazio ancora